Questa mattina a Villalba, in provincia di Caltanissetta, un operaio è morto mentre lavorava in campagna, in un'azienda agricola, incontrata a Minimenti. Si tratta di Calcedonio Loreto Ogni Bene, 49 anni, di Vallelunga Pratameno. La vittima era la guida di un escavatore cingolato della ditta per la quale lavorava, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Prima che l'escavatore si ribaltasse, l'uomo si è lanciato fuori dall'abitacolo, nel tentativo di salvarsi, ma cadendo ha battuto la testa al suolo, riportando un grave trauma cranico. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi e dalla centrale operativa del 118 del capologo Nisseno è stato inviato all'elisoccorso. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villalba e i dipendenti dell'ispettorato del lavoro di Caltanissetta, che hanno effettuato il sopralluogo ed eseguito gli accertamenti del caso.